Io ti ho portato, però tu devi stare attento, devi essere prudente per noi. Ok, sì, però io un giro me lo voglio fare al cavallo. Ma io non sarei tanto tranquilla, perché non hai la possibilità di usare l'altro braccio. Vabbè, ma io sto attento, non la faccio con quella più manzueta. Ci puoi salire soltanto per due minuti, qua nella stradella, faccio una passeggiata e basta. Sì, ma come fai a salire? Vabbè, mi faccio aiutare. A me piace la campagna perché si respira l'aria pulita, mi sento libero, mi sento felice, mi rilasso in campagna. Gli animali, gli animali devono conoscere. Io un poco c'ho paura. Allora se tu gli transmetti paura, loro hanno paura. Se tu gli transmetti coraggio, loro hanno pure il coraggio. È così. Posso salire a cavallo? Sì, sì, tranquillo, puoi salire, non è successo niente. È brutto il fatto che non ha il braccio, insomma, che non può usarlo. Tranquillo, tranquillo. Senza esagerare, amore mio, bisogna essere prudenti. Io a 30 anni mi immagino qui a Mistretta e nella mia campagna perché vorrei diventare un allevatore. Di cavalli come di altri animali. Ti veniti forte, non ti lasciamo. Io a 30 anni mi immagino.